Prenotare le vacanze online è un'esperienza terrificante, terrificante, orribile, perché i tirchi come noi devono affrontare i siti che confrontano gli hotel. Quei bastardi, Trivago, Booking, Expedia, ce ne sono tantissimi e tutti uguali, tutti quanti, mostrano nelle loro pubblicità ingannatorie dei ragazzi come noi, appunto, dei sozpezzenti che vogliono andare in vacanza pagando il minimo possibile e mostrano Pietro che non si sa come va a Dubai con 15 euro, ma come fa? Lui ce la fa e allora se ce la fa Pietro posso farcela anche io, mi collego al loro sito, scrivo la città, scrivo le date e clicco su invio, parte un'adrenalina incredibile, io ci credo, ma guardate che pagina che c'è, ma che posti, sole, mare, servizi, massaggi, guarda che camere, sembrano la reggia di Versailles, cazzo ma è la reggia di Versailles? Ma guarda che prezzi, sei cifre, io non ho mai visto dei prezzi così, ma, ma, aspetta un attimo, ho capito, non mi vengono mostrati i prezzi in euro, ma in rupee indonesiane, è una moneta super svalutata dall'inflazione, la pagano con le valigie un caffè, sicuramente sarà così. No, no, è in euro e quelli sono gli hotel consigliati da Trivago, Booking, Expedia, bastarmi! E io non accetto consigli da voi, accetto i consigli dal mio mouse che mi conosce e che automaticamente porta la freccetta lassù, su, su, là, dove c'è l'ordinamento. Lui sa come io acquisto online e quindi clicca su, mostra prima le soluzioni più economiche. Eh sì, grazie, grazie. Io compro così. Peccato che, al cambio di pagina, da solare bellissima bianca, la pagina diventa nera, corva, tuba, terrificante, fa paura, sembra che sei entrato nel dark web. Probabilmente sei nel dark web, perché anche i banner sono cambiati. Non c'è più la bibita, non c'è più il massaggio, non c'è più il panorama, no! C'è il traffico d'armi internazionali, c'è un pervertito, c'è l'hacker che ti vuole rubare i dati. Ma no, tu non puoi concentrarti sulla visione periferica, no? Tu devi guardare al centro, dove ci sono gli hotel, le soluzioni dove puoi andare a dormire. E quindi cosa fai? Scorri un po' la pagina, arrivi al primo bed and breakfast economico. E lo riconosce subito perché il bed and breakfast per Pezzenti lo becchi subito dalla foto, quella in cui mostrano una camera quadrupla. Tutti quanti mostrano la camera quadrupla, con all'interno i letti a castello in ferro. Tutte quante con coperte marroni, fisse anche d'estate. Quei letti a castello lì sono stati rubati dalle ex caserme smantellate dopo che lo Stato ha tolto la leva obbligatoria. E così loro hanno detto prendiamo il bed, ci manca il breakfast. E allora tutti quanti ti mettono colazione internazionale. Solo che però vai a finire in parrocchia con i richiedenti asilo. Capita, è così. E devi stare anche attento a questi bed and breakfast economici quando ti scrivono bagno in comune, che non significa che tu lo devi condividere con gli altri ospiti dell'hotel. Significa che vai proprio in giro per il comune, tanto non c'è nessuno, sei in un paese fantasma, la fai qua e là, in un paese lontano, 40 km dalla città, che avevi inizialmente deciso. Nonostante tutto posso acquistarla questa camera, però fammi controllare altre soluzioni. Non posso! Non posso perché? Perché il sito comincia a bombardarmi, bombardarmi veramente forte, di alert, segnali di pericolo, messaggi, sirene, c'è di tutto, countdown, che mi avvisano che in questo preciso istante qualcun altro in giro per il mondo, qualche altro pezzente come me, sta pensando di acquistare la mia stessa camera. Ma com'è possibile? Tu mi devi dire chi è, mi devi, me lo devi far conoscere. Dimmi almeno una nazionalità così per tutta la vita potrò odiare quella nazione. No, non mi dici niente, mi dai solo tensione. E allora vabbè, la compro, la compro. Clicco su prenota e corro immediatamente sulla mia mail, perché io sono un tipo ansioso, sono tirchio e pure ansioso, devo aspettare la conferma prima di poter festeggiare. Non è arrivata! Clicco allora su aggiorna, 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 non arriva, non arriva, arriva, è arrivata! Finalmente posso partire un weekend per Porto Gruaro. Porto Gruaro.